La Silent Disco è l'alternativa alla discoteca dove siamo sempre abituati ad andare, quella tradizionale, quella che tutti conosciamo. Ma com'è che funziona? È una serata molto diversa dalle altre, insomma, anziché andare nella solita discoteca, avere a che fare, trovarsi in un silent party è tutta un'altra cosa, possiamo dire questo. Tre tipologie di musiche, il colore blu, il colore rosso e il colore verde. Abbiamo tre canali diversi dove ognuno di noi cerca di catturare la parte di pubblico, insomma, quando si vedono le cuffie colorate del tuo colore, dice che sta funzionando. E poi è bello vedere come la gente cambia a seconda di quello che scegli tu. Cambiamo spesso il canale a dipendenza della musica che emersono. Quindi appunto il concetto di discoteca in silenzio c'è, perché la musica non ne senti, a meno che fai così. Quindi diciamo che non toglie la socialità. No, effettivamente no, perché ti fa stare insieme tutti nella stessa stanza, però ascoltando cose diverse. Volendo togli le cuffie, quindi puoi comunicare normalmente con le altre persone. No, effettivamente nel secolo delle cose.